L'evento è estremamente efficace quando è capace di identificare precisamente qual è il suo target. Se il target dell'evento diventa compatibile, quindi omogeneo con il target del prodotto dell'azienda, per l'azienda quell'evento diventa un fattore di successo perché riesce ad arrivare direttamente al suo pubblico di riferimento in maniera efficace. Ovviamente poi sulla reale efficacia della comunicazione attraverso l'evento bisogna capire quali sono le metodologie di comunicazione che l'azienda adotta quando è nell'evento. Però per loro è un'opportunità, uno perché costa decisamente meno di uno spot televisivo, se consideriamo che uno spot significa una parte relativa alla produzione dello spot e poi alla messa in onda, ma soprattutto se uno spot ipoteticamente può raggiungere un milione di persone, certamente sull'evento non raggiungi un milione di persone e raggiungi mille, duemila, tremila, ma quelle tremila sono esattamente quelli che cerchi.